bella ragazze bentornati in questo nuovo video oggi stiamo in un video particolarissimo aspettate che metto così oggi non sono più il normale alberto ma sono l'alberto hippie infatti come vedrete scusate ma devo stare un po nero adesso lassù là c'è l'hippie market e andremo a vederli insieme non è vero gli hippie sono brutti però guardate che cosa mi capita di vedere non ci posso credere sono tutte copiate dove vediamo un po hippie style pure nell'arte ci vediamo quando trovo qualcosa di importante non so quanto vi regisserò perché qua di hippie c'è zero proprio per loro non contavano niente i soldi 7 euro una birra che non la voglio mio padre quindi c'era che c'era il camionetto degli hippie però non c'è niente di hippie l'unica cosa che c'era di hippie era il camionetto vero? il camionetto il cane l'ingresso? è laggiù era e cos'era di hippie? eh quello su cui andavano gli hippie no ecco guardate che bello questo qua questo qua è da hippie sono gli hippie di oggi questi non sono più niente poveri hippie per questo video è tutto se vi è piaciuto mettete un commento mi piace se non ancora non avete fatto iscrivervi al canale perché è tutto bella